Sì, questo è modendario. 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 Sì. 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 Sì, questo è modendario. Sì. Sì, questo è modendario. Sì. 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 A che punto sei con il matrimonio per i preparativi? Sono tornato tra poco dall'isola e il mio piatto è pieno, diciamo questo. Arriva il giorno, è una grande produzione, ma è un grande momento per noi e per fortuna in questa produzione ho una bellissima stella, la mia fidanzata, Virginia, io ho una grande leading lady, diciamo, in questa io sono molto felice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.